Secondo a noi, Vittorio, l'ipotesi Draghi, adesso la Meloni fa una nuova agenzia dicendo che Draghi non partirebbe bene. E' un tema complesso, questo dei veti incrociati su Draghi che avrebbe anche il massimo del consenso, dividendo in due quel mondo strano dei 5 Stelle, che si orienta appunto come indica il fatto, soprattutto poi quelli ex 5 Stelle, però occorre dire che il metodo, anche quello che ha accennato Rotondi, esibire Berlusconi alla quarta votazione, sarebbe stato giusto se si fosse scelta, proprio come chiedevano rispetto al metodo mio che era tutto aperto, una strada sotterranea. Cioè tu fai, non dici mai il nome di Berlusconi e lo esibisci alla quarta votazione. Lavori sotto traccia. Se invece lavori come ho fatto io, come hanno fatto loro, l'hanno candidato, gli l'hanno chiesto, l'hanno esibito, l'hanno sostenuto, hanno cercato voti. E' chiaro che quando li cerchi, li cerchi con tutti i modi. Il mio era il più logico perché coinvolgeva direttamente lui. Ma c'è un'altra strada. Occorreva che lui andasse la settimana scorsa da Putin per dirgli blocca i carri armati e l'esercito contro l'Ucraina. Sarebbe stato un gesto da supremo statista. Quindi l'incrocio tra la battuta di Rotondi e quella della Biancofiore ci indica un Berlusconi che può fare quello che nessun altro può fare. Se va Letta da Putin, ma chi se lo fila? Se va Renzi da Putin, Renzi forse un pochino più di credibilità. Però voglio dire, la credibilità di Berlusconi va dimostrata sul campo. A quel punto un colpo di scena come quello poteva aprire la quarta votazione. Adesso mi pare un po' bizzarra. Però è vero che Mazzarella era del PD, Napolitano era del PD, Scalfaro era della sinistra democristiana. Che la centrodestra proponga un nome di area o il presidente del senato Casellati, che è tra l'altro di Forza Italia, è una proposta che ha una logica istituzionale nell'ordine degli alleati di centrodestra. Vedo pronta Ligia Romagna.